Innanzitutto ringraziamento, ringraziamento per il lavoro che fate, la nostra avvocatura, lo stesso Comune di Napoli ha un'interproduzione, potremmo dire giornaliera, con il Tribunale Administrativo Regionale della Campania e noi cerchiamo di leggere sempre con l'attenzione che meritano i nostri provvedimenti ogni decisione, quelle favorevoli e quelle sfavorevoli, così come per niente locale è fondamentale sottoporsi con serenità a tutti i controlli quotidiani, la magistratura ordinaria, la Corte dei Conti nelle sue articolazioni, il Tribunale Administrativo Regionale. Il compito nostro è anche quindi un momento difficile, evitare che il diritto da strumento di espansione dei diritti affievoliti possa diventare la cambia che non consente ai diritti costituzionali di potersi affermare. Ecco perché compete anche a noi, rappresentanti delle amministrazioni locali, provare sempre a interpretare lo stesso diritto in modo sempre più costituzionalmente orientato. Io ad esempio con particolare favore ho salutato una sentenza della Corte Costituzionale poco prima di Natale sul rapporto tra l'articolo 81 capoverso di un pareggio del bilancio inserito in Costituzione e i diritti costituzionali primari che troppo spesso vengono soffrontati perché prevalgono le logiche di finanza pubblica rispetto ai diritti primari della vita di ordine di persone. La Corte Costituzionale ha visto una cosa molto importante cui anche noi come Comune di Napoli avevamo dato seguito con una questione molto controversa sul piano amministrativo. La Corte Costituzionale ha detto che il diritto all'assistenza delle persone deboli, in particolare ai disabili, non fosse già c'era al principio di pareggio di bilancio anche se introdotto nella Costituzione. Io credo che è un fatto molto importante perché è un modo che ad ognuno di noi non dimenticare mai che nella gerarchia delle fonti al primo posto c'è la Costituzione Repubblicana e quindi anche in questi giorni ci interroghiamo su tante cose, ad esempio noi che amministriamo non solo la città e comunità ma anche la città e comunità attraverso anche condotte che riteniamo virtuose di amministrazione abbiamo per esempio un avanzo numero di otto 500 milioni di euro che secondo la normativa nazionale noi non potremmo spendere perché c'è un equilibrio di bilancio, formato su un bilancio di casse non più di competenza perché in quel modo si squilibra il bilancio e quindi quando i vari dirigenti scolastici, i vari interlocutori della nostra attività ci chiedono, amministratori noi abbiamo bisogno di risorse economiche per mettere in atto i diritti che soffocano, noi abbiamo anche le risorse per poterlo fare e i principi generali di finanza pubblica ci dicono che tutto questo non si può fare. Di fronte a questo credo che la funzione del diritto non deve essere quella di essere la funzione dichiarativa come magistralmente insegnava il mio obiettivo molti anni fa ma la funzione di interpretativa almeno ci dobbiamo trovare ovviamente in una cornice giuridicamente sostenibile, in una cornice di regole che possa tenere insieme i vari equilibri. È un po' come il discorso degli appatti, ben vengano controlli, certe volte alcuni controlli si sovrappongono anche, ben vengano le norme, quando però diventa un cinebraio di norme che alla fine aumenta il contenzioso e si registra anche un rallentamento certe volte delle procedure di lavori pubblici, questo ci deve impegnare ad ognuno di noi per fare sempre maggiormente sforzi per avere regole chiare, precise, comprensibili da tutti, dal RUP al funzionario amministrativo, al dirigente, al sindaco e a tutti coloro che poi si devono occupare di procedure così compresse. Allora ho apprisposto in questi anni da potesse pronuncere le varie giurisprudenze che ci sono state e anche noi con tutti i nostri limiti ci siamo cercati di sforzare, di non dare sempre delle risposte che magari formalmente potevano essere ineccepibili, che magari ci esponevano personalmente anche molto meno, che magari potevamo anche pilatescamente andare tranquilli a dormire quelle poche ore che riusciamo a dormire a casa, ma invece questo credo che non è il compito di un amministratore che cerca di prestare attenzione alle leggi, prestare tanta attenzione alle pronunce giurisprudenziali, alla consulenza dei tanti avvocati, all'interpretazione dei dirigenti, ma poi quando andiamo per strappo a quello sapere che siete cittadini come noi ci sono i bisogni, è bisogno e comunque dobbiamo dare risposta. Ha quindi l'auspicio a tutti noi di non perdere mai di vista, così come in questi mesi si è tanto discusso della Costituzione Repubblicana che il diritto è soprattutto un mezzo per cercare di dare forza ai diritti che sono più deboli e i diritti deboli non possono soggiacere di fronte al potere più forte che sembra essere quello del denaro o della finanza pubblica, perché poi se andiamo a guardare con attenzione si possono anche nella vita fare delle interpretazioni che ci fanno stare ancora più tranquilli con la coscienza, perché abbiamo mantenuto un equilibrio giuridicamente sostenibile, ma abbiamo dato anche una risposta ai tanti diritti che sono particolarmente deboli nel nostro Paese. Io voglio quindi concludere questo mio saluto garantendo come sempre la cooperazione istituzionale, ognuna delle proprie autonomie tra istituzione locale, cittadina e metropolitana della nostra città e il Tribunale Amministrativo Regionale e anche ringraziare il Tribunale Amministrativo Regionale per il lavoro difficile e complicato prima in Italia la quantità di produce che nella nostra città, che non dimentichiamoci mai, è la patria del diritto e la sede della più antica università laica del mondo, quindi per noi il diritto ha sicuramente una funzione particolarmente evidente. Il TAR è un interlocutore istituzionale fondamentale per gli enti locali, perché sono tante le procedure, tanti procedimenti, attività di controllo che deve avere sempre uno sguardo attento sulle sofferenze e difficoltà con cui si amministra e anche tutti insieme guardare con attenzione l'interpretazione costituzionalmente orientata che cerchiamo di dare di norme che certe volte rischiano di mettere in ginocchio gli enti locali, quindi apprezzamento per il lavoro che fa la giustizia amministrativa nella nostra città e anche con il tentativo concreto di ridurre i tempi della giustizia e anche la quantità di decisioni che vengono emesse. La curiosità per il 2017 è vedere l'applicazione della nuova norma di Gabbanti. Sì, e là c'è tanto da fare, perché ci vuole trasparenza, ci vuole legalità, ci vuole prevenzione nei confronti della corruzione, ma anche norme che non ingessino, che non blocchino e che non creino una serie di formalismi che poi rischiano di profondamente rallentare lavori pubblici strategici. Ho sempre pensato con la mia esperienza di magistrato, poche regole ma chiare, comprensibili da tutti, poche sovrapposizioni e la possibilità di procedere celermente con cantieri e lavori pubblici. Tra l'altro lo dico in particolare nella nostra città, dove nei prossimi tre anni dovremmo avere circa 2 miliardi di euro di opere pubbliche che saranno investite nella nostra città. Quindi c'è bisogno di controllo, c'è bisogno di trasparenza, c'è bisogno di rapidità, di efficacia, di correttezza e di rispetto dei cronoprogrammi.